Fin dall'arrivo di iPhone 6 e 6 Plus nel 2014, ovvero quando Apple per la prima volta rese disponibili al lancio sia un modello con display più piccolo, sia un modello con display più grande, ho sempre optato, senza indugio, per quello più abbondante. Con il passare del tempo però mi sono chiesto, uno, come sarebbe stato e due, se sarei riuscito a riutilizzare il modello con display più piccolo. Quindi cosa ho deciso di fare? Di parcheggiare per una settimana il mio 14 Pro Max e vedere come mi sarei trovato con il più piccolo 14 Pro. Come sarà andata? Lo scopriamo insieme dopo la sigla. Prima di cominciare una rapida premessa su iPhone 14 Pro ed iPhone 14 Pro Max perché sono in effetti praticamente gli stessi dispositivi perché hanno la stessa SOC, quindi la stessa potenza di calcolo, hanno lo stesso quantitativo di RAM, hanno lo stesso identico comparto foto e video, quindi stesse lenti e stessi obiettivi, ma hanno anche la stessa identica tecnologia dei display. Hanno chiaramente gli stessi colori nel telaio e gli stessi spazi di archiviazione. Ho tenuto a precisarvi queste cose perché quasi sempre nel passato il modello più grande aveva qualcosina in più rispetto al modello più piccolo. Qualche volta abbiamo trovato più lenti come ad esempio sul 7 e sul 7 Plus che ne aveva già due. A volte abbiamo trovato una tipologia di lenti diverse, soprattutto tante volte abbiamo avuto degli stabilizzatori esclusivi per la versione più grande. In effetti questi due sono proprio lo stesso dispositivo a un trend che forse già l'anno prossimo con l'uscita di 15 Pro e 15 Pro Max terminerà perché il più grande si prevede dai rumors che possa avere la lente e tele periscopica. Quindi mi trovo qui a confrontare due dispositivi praticamente identici ma che hanno tre differenze sostanziali. La prima è la differenza generali nelle dimensioni, la seconda è la diagonale, quindi la dimensione del display e la terza ben importante è il ragionamento che riguarda autonomia e batteria. E partiamo con la prima differenza rappresentata dalle dimensioni perché il 14 Pro misura 147,5 d'altezza per 71,5 di larghezza, dimensioni che crescono sul 14 Pro Max perché si arriva a 160,7 di altezza per 77,6 di larghezza. La profondità ovvero lo spessore di entrambi i modelli è lo stesso e misura 7,85 mm. Differenza sostanziale la troviamo nel peso perché il 14 Pro pesa 206 grammi contro i 240 grammi del 14 Pro Max. Queste differenze e questi pesi sono destinati a crescere perché immagino che tutti quanti voi come me userete delle cover e voglio inserirlo proprio nelle cover ufficiali Apple in silicone che sono quelle che io utilizzo praticamente da sempre. Ho inserito quella del 14 Pro e adesso vado a inserire quella del 14 Pro Max e ovviamente queste due cover non fanno altro che aumentarne ancora un pochino il peso. E infatti il peso del 14 Pro fermenta da 206 a 236 grammi mentre se parliamo invece del Pro Max passiamo dai 240 grammi ai 275 grammi e questo probabilmente è il numero da tenere più in considerazione perché ci si avvicina tantissimo ai 300 grammi e forse per qualcuno è un filino troppo. Tuttavia se dovessi assegnare ogni punto per le tre categorie assegnerei il primo punto al 14 Pro perché inizialmente ero abbastanza spaventato nel pensare di utilizzare un dispositivo più piccolo dopo anni e anni in cui utilizzo quello con display più grande. In realtà mi sono trovato benissimo la tecnologia e la risoluzione talmente elevata che non mi ha causato problemi e mi è piaciuto molto tenere in mano un dispositivo un po' più piccolo che posso infilare senza tanti problemi in tasca e che sta un pochino più ovunque sentendo anche meno il peso. Realmente ero abbastanza intimorito da questa cosa e invece ritengo che il 14 Pro abbia la dimensione ideale per tutte le tipologie di mano sia per chi ha una mano abbastanza piccola sia per chi ha una manona seppur io nella dimensione del 14 Pro Max non vedo un eccesso quindi comunque io continuo a trovarmi bene con la dimensione del 14 Pro Max è chiaro che poi i pixel in più che trovo dal display e che vediamo fra pochissimo sono chiaramente un plus il peso per quello che mi riguarda non è un problema quindi comunque tornando a questa ipotetica classifica se dovessi dare un punto lo darei sicuramente al 14 Pro. Ma prima di procedere con il punto successivo immagino avrete già notato lo sfondo che c'è su entrambi i display degli iPhone qui davanti. La bella notizia è che l'ho creato solamente per voi e potrete scaricarlo rapidamente accedendo ad un link qui sotto nella descrizione del video che vi porterà sul mio sito web dal quale potrete appunto scaricarlo gratuitamente. Quando passate da qui sotto sono a chiedervi i soliti due piccolissimi favori ovvero quello di lasciare un bel like al video effettuando anche l'iscrizione al mio canale due gesti rapidi e gratuiti per voi ma per me di fondamentale importanza. Ma procediamo oltre spediti con il secondo punto che differenzia 14 Pro e 14 Pro Max ovvero la diagonale e la dimensione del display. Infatti il 14 Pro monta un display da 6.1 pollici contro i 6.7 pollici del 14 Pro Max. La tecnologia di questi due schermi è completamente la stessa ritroviamo la stesso picco di luminosità si parte dai 1000 nit in modalità standard per arrivare ai 1600 nit con contenuti HDR per arrivare veramente a un valore altissimo che è quello dei 2000 nit in caso di grande luminosità come può avvenire sotto il sole quindi in questo senso stessa identica tecnologia OLED con una fedeltà nei colori praticamente impressionante ma non è tutto perché ritroviamo la stessa tecnologia anche promotion ovvero la tecnologia che parte da un hertz per arrivare ai 120 hertz in modalità dinamica di refresh rate troviamo in entrambi i casi la dynamic island e in entrambi i casi c'è anche l'always on display quindi in tal senso l'unica vera grande differenza è rappresentata dalla differenza nella diagonale e nella visione cosa fondamentale è che entrambe le risoluzioni di questi dispositivi garantiscono i 460 ppi ovvero pixel per pollice che poi alla fine è quel numero che conta di più funzionalmente alle dimensioni ma per farvi vedere come si vedono a confronto ho preparato una galleria per farvi vedere appunto come si vede sul 14 pro e sul 14 pro max vedete innanzitutto che in questo primo esempio c'è una pagina web vedete come sul 14 pro max viene garantito qualche riga in più ed è bene anche dire che il contenuto del 14 pro viene scalato in avanti cioè la grandezza dei caratteri è praticamente la stessa del 14 pro max e proprio per questo risulta essere un pochino più stretta ma andiamo oltre e vediamo ad esempio un'altra pagina web è una ricerca google dove vedete che qua ci sono più righe visibili andiamo avanti ancora wikipedia vedete che si arriva decisamente più in basso nella visione dello schermo ma passiamo ad esempio anche all'app meteo dove vedo quasi due giorni in più quando vado a richiamare le previsioni questa è l'app musica dove anche in questo caso compare già la lista delle playlist da non perdere arrivo ad esempio al mio canale youtube dall'app youtube dove si vede praticamente un video in più arrivo a uno shorts quindi la visione di uno shorts che viene garantita tutto schermo quindi con anche risultati migliori più appaganti per arrivare ad esempio alla pagina di impostazioni dove qua si notano due righe aggiuntive l'app store e per arrivare alla calcolatrice questa è pressoché identica per per arrivare a vedere un profilo di instagram il mio e vi invito se già non lo state facendo a seguirmi anche lì perché siete quasi diecimila anche su instagram e arrivare a tik tok dove effettivamente qui viene scalata in maniera un po' diversa e il risultato è pressoché lo stesso in definitiva quindi la dimensione del display attribuisce il secondo punto al 14 pro max perché mi garantisce sempre una maggiore dimensione a tutto schermo dei contenuti che sto leggendo ma soprattutto per me che sono un creator di quelli che sto creando e fidatevi che anche due righe in più a volte fanno la differenza e quindi trovo che il 6.7 pollici di diagonale con questa risoluzione altissima abbiala meglio sul 6.1 che comunque resta un display pazzesco con una risoluzione dei colori pazzeschi completamente identici al 6.7 ma questo vale per me magari voi qui sotto nei commenti ditemi qual è la dimensione più adatta al vostro tipo di utilizzo e siamo arrivati così alla terza differenza su una situazione di pareggio 1 a 1 e quindi questo terzo punto assegnerà il punto vincente a uno di questi due dispositivi almeno per la mia classifica personale e ho le idee già molto chiare a cui assegnarlo ma facciamo un passo indietro perché vi voglio raccontare quanto è la capacità delle batterie di questi dispositivi il 14 pro monta una batteria da 3.200 mAh contro il 14 pro max che monta una batteria da 4.323 mAh se dovessimo fare una percentuale di differenza fra i due ecco il 14 pro max ha il 35% di capienza della batteria aggiuntiva e questa differenza o meglio questa capacità maggiore dei 14 pro max ha permesso a me di avere due risultati completamente diversi nell'utilizzo quotidiano di questi due dispositivi ma prima ci tengo a raccontarvi come utilizzo io questi iPhone io mi sveglio circa verso le 8, 8 e mezza, 9 dipende dalla giornata per arrivare poi fino quasi sempre a notte fonda circa l'1 e mezza alle 2 quando li metto in modalità aereo e li metto in ricarica che utilizzo ne faccio? Beh se c'è un uso intenso che si può chiamare proprio intenso quello lo faccio io oltre che scattare almeno una decina di foto ogni giorno magari registrare anche delle clip video io utilizzo questi iPhone per navigare tantissimo rispondere almeno 10-15 mail ogni giorno ho un'attività molto intensa di chat che sia da Whatsapp a Telegram dove posto anche e vi invito a seguirmi a volte le offerte nonché i nuovi video ci ascolto la musica e questo avviene la maggior parte delle volte quando mi trovo in auto e quindi il collegamento con CarPlay avviene sempre via Wi-Fi perché la mia Audi supporta CarPlay Wi-Fi e quindi in quel momento non è in ricarica ma se ad esempio vado anche a fare sport e correre sia indoor ma anche outdoor utilizzo le AirPods e quindi anche in quel caso c'è una connettività Bluetooth che consuma energia per il resto ho un'attività social altissima pensate che quasi tutti i giorni posto su Instagram un reel o un post o tantissime storie così anche come su YouTube dove ultimamente sto portando tantissimi shorts che la maggior parte delle volte vado anche a editare direttamente dal mio dispositivo insomma non voglio continuare ma era giusto dirvi che ne faccio un uso realmente realmente molto intenso e quali sono i risultati? Il risultato è che dopo una settimana quindi sette giorni di utilizzo a 360 gradi e in questo modo con l'iPhone 14 Pro io verso le 10, 10 e mezza sono arrivato a farlo spegnere ogni singolo giorno solamente in una giornata mi sono spinto fino oltre mezzanotte ma era una giornata in cui avevo postato poco ed ero rimasto in casa ci tengo a dirvi anche che la maggior parte di queste sette giornate le ho passate in casa quindi sfruttando la connettività wifi e non quella 5G che tende a consumare un po' di più se invece devo parlarvi del 14 Pro Max che ho usato fin dal day one quindi fino da settembre del 2022 a me non è mai successo che questo si spegnesse solo qualche volta sono arrivato circa al 15% di batteria residua ma la stragrande maggioranza delle volte non è mai andato neanche sotto il 20% restando anche a un 25-30% funzionalmente alle giornate quindi questo cosa vuol dire? Che il 14 Pro Max garantisce sicuramente nel mio uso almeno altre due ore, due ore e mezza di utilizzo nell'utilizzo normale questo può spingere un 14 Pro Max a fare anche quasi due giornate intere se lo utilizzate ovviamente in maniera più light e quindi il vincitore è ovviamente il 14 Pro Max e questo ci fa capire anche che la tecnologia dei display così evoluta e che hanno entrambi i dispositivi non aumentano il consumo della batteria e proporzionalmente all'aumento della dimensione del display è una tecnologia ormai arrivata a una maturità tale che la dimensione poi non conta così tanto considerate anche e non ve l'ho detto prima che questi display hanno sempre l'always on display attivato e fin dal lancio l'ho sempre lasciato attivo anche se vorrò provare a vedere magari prossimamente cosa succede se non lo tengo attivo nella sostanza delle cose questo porta a un utilizzatore come me quindi a un utilizzatore intenso a dotarsi di power bank esterni nel mio caso io ne ho sempre utilizzati due per la verità quel 14 Pro Max non mi è successo di averne avuto tanto bisogno quello Apple e quello di Anker ve li lascio qui sotto in descrizione se magari li volete acquistare ma che ovviamente andandoli ad attaccare nella parte posteriore come avviene con quello Apple va decisamente poi a stravolgere quella che la classifica perché aumenta il peso aumenta la dimensione e secondo me cala anche la bellezza del dispositivo in sé quindi terzo punto è classifica generale la vittoria è totalmente del 14 Pro Max almeno nel mio caso e arrivo così alle conclusioni anche se in parte ve le ho già anticipate perché ho già eletto il mio vincitore che è il 14 Pro Max ma che si adatta completamente a quelle che sono le mie esigenze di creator cioè una persona che lavora praticamente col dispositivo se non siete un creator e non avete questa mole di lavoro continua nel fare contenuti nel generare contenuti nel pubblicare contenuti sappiate che anche col 14 Pro farete tranquillamente la giornata e anzi vi dico la verità sono rimasto sorpreso dall'ottima impressione che mi ha fatto anche essendo più piccolo come vi ho accennato più volte ero impauritissimo dalla dimensione del display che invece è fenomenale è chiaro che però la batteria nel caso di una persona come me diventa essenziale e quindi non rinuncerei mai all'abbondanza in grado di garantirmi il 14 Pro Max sappiate che comunque se per voi la dimensione troppo elevata è comunque un problema e dovete comunque svolgere tante attività un power bank magari MagSafe come i due che vi ho mostrato e che trovate sotto in descrizione potranno fare al caso vostro sono comunque due dispositivi spettacolari e tornando alla domanda che ho fatto nel titolo del video sì è possibile tornare indietro e utilizzare anche il modello più piccolo ma quello che mi interessa di più adesso è sapere da voi cosa ne pensate di questi due dispositivi e delle differenze che vi ho elencato e che questi due dispositivi hanno e che li differenziano tantissimo magari raccontatemi la vostra storia con uno di questi due modelli in numerosissimi qui sotto nei commenti direi che anche per il video di oggi è davvero tutto non dimenticatevi che qui sotto in descrizione trovate il link per scaricare lo sfondo che avete visto durante tutto il video noi ci vediamo presto prestissimo qui sul canale con tantissimi nuovi video un grande saluto da Francesco, ciao!